La televisione ci offre ancora dei programmi meravigliosi, imperdibili Restate lì perchè anche la radio offre dei programmi meravigliosi, in finis e Pimana, c'è una rada che scornacchia in onda per diverse ore, bellissimo programma devastante Che signorinata eh? E' il futuro di questo mezzo antichissimo che presto celebreremo al Radio World Day, con lei che... Ma se la faccio si trasforma in principe No, si tiene duro Ma anche da me è uscito, cioè dopo Piamantino è uscito un Magikarp e un altro ruolo Un do stress e estrella Un passito bailando Ma come è parcheggiato bene stasera Un passito bailando Ma come è parcheggiato bene stasera, hai visto? Ok Questa mese c'è buon parcheggio perchè fermarsi qua, ho fermati la e mezzicoglioni Questa mese c'è buon parcheggio perchè fermarsi qua, ho fermati la e mezzicoglioni Fum minuto Il gimistro tio Ehm Ehm Questa persona che sponeva delle visi e era qualcun'era Ma – Già della gara – Le fat desenze il dibuuccio di danza Madonna Pianna La gara – Pianna Ehi Che rischio Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, mezzo coglioni. Sì, c'è la nonchalance proprio con cui si sbatti i coglioni in mezzo alla strada, tranquilla. E fa tipo il risotto con la roba. Sì, è strano che non ho pensato di appunto. Non ho pensato di andare a mangiare da qualche parte. Non ho pensato di andare a mangiare da qualche parte. Non ho pensato di andare a mangiare da qualche parte. Non ho pensato di andare a mangiare da qualche parte. Non ho pensato di andare a mangiare da qualche parte.